È attivo il nuovo checkpoint di accesso al Policlinico Santa Maria Lescotte. Il presidio, situato all'ingresso del lotto 4, dove si trova il Dipartimento della Donna e dei Bambini, rientra tra le misure di prevenzione adottate dall'azienda ospedaliera universitaria senese per potenziare il livello di tutela della salute pubblica nell'ambito dell'emergenza nazionale sul Covid-19. Il nuovo checkpoint va ad aggiungersi a quelli attivati nelle settimane scorse e situati all'ingresso principale dell'ospedale in Viali Bracci, Tenda Protezione Civile, nel tunnel d'ingresso, uscita, parcheggio e riporto e all'entrata del vecchio pronto soccorso di Charge Room. Misure di protezione queste che hanno fatto seguito all'attivazione della prima struttura di difesa dell'ospedale e cioè il check-in per triage all'ingresso del pronto soccorso. Il nuovo checkpoint, come già avviene per gli altri, sarà attivo 24 ore al giorno e presidiato da un vigilante e da un infermiere che misurerà la temperatura corporea agli utenti che dovranno accedere all'ospedale.